L'occhio ha intenzione di scatenare Ulta. Tenete banner in laboratorio. Sto arrivando. Non è questo. Voglio solo dire di non rendermelo più difficile. Ehi, ehi! È il vostro vecchio amico Cassi del mio nuovo panino al maiale, l'intoppatore! Non ho mai ricevuto un'istruzione formale, ma credo di aver letto che l'ultimo re del nord sia stato Torren Stark. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Voci Animate, eccellenza italiana del doppiaggio, agisce come intermediazione tra l'organizzazione dell'evento e gli ospiti, assumendone la totale gestione. Volete i doppiatori ai vostri eventi? State organizzando un evento con i doppiatori? Siete doppiatori e vi hanno invitato a un evento? Potete rivolgervi a www.vocianimate.it